benvenuti a tutti in questo nuovo video oggi siamo su arma 3 con oggi vediamo come le truppe di fanteria si addestrano con la mod ace di armatrice che penso tutti conoscete ace ti permette di apportare modifica all'equipaggiamento animazioni e interazioni ma cosa più importante è il sistema medico il sistema medico comprende un livello base sapere utilizzare bendaggi o lacci emostatici mentre quello più avanzato in caso di ferite gravi o addirittura perdita parziale del soldato ferito in questo caso subentrano le skills del medico che con vari kit chirurgici utilizzabili nelle apposite strutture mediche e con massaggi cardiaci con l'aiuto di adrenalina morfina cercano in tutti i modi di salvare il compagno a terra ace quindi ti permette di simulare il più possibile il ruolo del medico sul campo di battaglia e quindi permette anche a chi non è medico di svolgere un primo soccorso se così vogliamo chiamarlo proprio sul campo di battaglia insomma questa mod è una delle mod migliori in circolazione se non la migliore da come potete vedere in questa sessione i nostri ragazzi si addestrano il sistema ace guidati dal tenente legge dopodiché abbiamo provato una simulazione di soccorso ferito in teatro operativo con le sfiltrazioni via elicottero con ovviamente il fuoco di copertura vedrete che i ragazzi appena arrivati sul mio corpo hanno creato una sorta di barriera di fuoco se così possiamo chiamarla tra virgolette per permettere al medico di operare in totale sicurezza ricordatevi che il medico dovrà sempre operare in sicurezza o perlomeno coperto dai fucilieri per avvicinarsi al ferito si attenderà quindi il check del medico per iniziare la manovra di sfiltrazione per aprire il menu di interazione della mode ace bisogna premere il tasto windows sulla vostra tastiera usciranno quindi delle voci di interazione sia mediche che non per sapere cosa è successo a vostro compagno ferito e quindi cosa utilizzare per curarlo vi basterà aprire il menu medico in base all'arto ferito utilizzare bendaggi per comprimere la ferita dopodiché per assicurarsi che la ferita non si riapra durante le azioni durante il movimento utilizzare quindi un kit chirurgico quindi una volta chiusa la ferita e quindi suturata la ferita con il kit chirurgico per far riprendere punti vita al vostro compagno bisogna regarsi in una struttura medica ed utilizzare il kit di pronto soccorso questa procedura è da fare in caso di ferito in campo di battaglia ricordatevi quindi che per utilizzare il kit di pronto soccorso e quindi restaurare tutti i punti vita del vostro compagno bisogna regarsi in una struttura medico o mezzo medico detto questo ragazzi volevo appunto spiegarvi quello che stiamo facendo in questi giorni con i ragazzi su arma 3 quindi una sorta di corso medico basico e avanzato per i medici per chi si deve specializzare nel ruolo medico e adesso vi faccio vedere la simulazione del ferito in campo con le sfiltrazioni via elicottero detto questo ragazzi noi ci vediamo un altro appuntamento sempre qui sul canale e buona visione a tutti ok leggio ci voglia qui leggio segnalamo la zona di atterraggio ok sinistra sinistra eseguito un perimetro difensivo intorno alle ricontrano della terza donna a destra prepariamo a cina da descontrarti una volta che accada è di superiore spostiamoci verso l'elicottero andiamo destra ok fronteci con l'elicottero a problematica ok e quindi si fa abbiamo prasciato Sì, abbiamo farsi un pochettino Siamo lì A mano che è arrivato all'elicottero ragazzi, tutti intorno all'elicottero perimetro difensivo Entra prima al lato destro senza un segnale Sì, è vero C'è vero Come on, tutto Gesù Che sucede, Gesù, 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 Gesù Grazie.